Eccoci, siamo a metà di Via Donghi, all'inizio di Via Manuzio, quindi una zona molto comoda oltre che tranquilla. Questo è un appartamento in affitto, proposto in locazione, quindi di sei vani abbastanza ampi, di circa 70 metri quadri, 65. Questo è un ingresso ampio, sfruttabile con delle librerie, con dei portabili. Subito, percorrendo il corridoio sulla destra, troviamo la prima camera, che potrebbe essere sia utilizzata come camera che come soggiorno. Andando avanti, sulla destra troviamo il bagno, un bel bagno, con la sua doccia molto grande. Ecco, l'intero appartamento è stato ristrutturato proprio di recente, quindi è tutto nuovo. Qui sulla sinistra troviamo la seconda camera, sono camere molto grandi, con l'accesso al poggiolo, che poi vedremo. Di fronte a noi troviamo la cucina, che è una cucina molto grande, abitabile, è davvero una zona giorno, anche questa. Qui abbiamo l'esposizione verso l'interno, che però è luminoso, perché ci troviamo anche a un piano relativamente alto. Subito dopo troviamo la dispensa, sempre molto comoda, una dispensina, e la terza camera. Quindi il fatto che i mobili si presentano con due camere da letto e un soggiorno, oppure con tre camere da letto, visto che la cucina è molto grande. E poi abbiamo il poggiolo. Il poggiolo che di solito è molto tranquillo, anche se siamo subiamo anunzio, adesso stanno facendo dei lavori, proprio qua li possiamo vedere, quindi adesso proprio tranquillo ovviamente non lo è. Qui abbiamo il poggiolo, torniamo dentro, e ricapitolando abbiamo un bel seivano, grande, di circa 70-65 metri, circa 70 metri, nella zona di via Manuzio, quindi siamo proprio all'inizio, a metà di via Donghi, quindi anche molto comoda, e abbiamo prima camera, cucina grande e abitabile, seconda camera, sempre con l'accesso al poggiolo, il bagno, la terza camera e l'ingresso. E abbiamo finito. Grazie. Grazie.